E' stata effettuata stamattina all'ospedale di Sciacca nel corso di una pubblica manifestazione la consegna del software StarMap all'unità operativa di radiologia del Giovanni Paolo II. Si tratta di uno strumento diagnostico destinato ai pazienti talassemici, donato dal Kivanis Club Sciacca Terme in collaborazione con l'associazione A Cuore Aperto. Qual è il valore medico di questo strumento diagnostico che viene oggi messo a disposizione dell'unità operativa di radiologia? Ma è un software che permette di quantificare ed evidenziare il ferro nel muscolo cardiaco dei pazienti talassemici. E quindi è fondamentale perché già la patologia ha delle complicazioni e se si riesce a individuare certe situazioni particolari si riesce meglio a curare questi ragazzi, in genere, a questi pazienti che hanno bisogno di una notevole assistenza dal punto di vista sanitario. Sono circa 130 pazienti talassemici in cura presso l'ospedale di Sciacca. A rappresentarli l'associazione Fasted. Oggi i talassemici, grazie al Kivanis Club Sciacca Terme e l'associazione A Cuore Aperto che si sono impegnati in questa iniziativa, i talassemici riescono adesso a fare un esame importantissimo proprio sotto casa e finita la terapia possono andare in radiologia ad eseguire questo esame radiologico. Si adatta in questo modo la terapia al paziente sulla base della quantità di ferro che ha libero nel corpo. È normale che prima questo esame lo si faceva ugualmente, però lo si faceva fuori o a Pisa o a Palermo o in altre zone. Ricordiamo che fra i talassemici ci sono anche disabili, quindi era davvero difficile far spostare un paziente dalla propria città fino a 200 chilometri di distanza, se non più, anche 1000 chilometri. Pazienti talassemici, quelli curati all'ospedale di Sciacca, che dunque adesso potranno avere migliori possibilità per essere curati. Pazienti talassemici che sono finiti sotto i riflettori dopo i casi di contagio da epatite C. Su quello c'è una magistratura che sta facendo le sue indagini e io mi affido, come tutti i talassemici che io rappresento, alla magistratura. Sicuramente in questa vicenda c'è qualcosa di strano, però abbiamo il dovere di ringraziare l'assessorato alla salute, l'onorevole Baldo Cucciardi e la direzione aziendale strategica dell'Aspiti Agrigento che in questa vicenda c'è stato davvero vicino, in particolare il professore Lobosco che ha davvero fatto da collante fra noi, diciamo, dell'associazione Fasted e l'assessorato alla salute. Il rischio di sbagliare purtroppo è dietro l'angolo, ha spiegato il direttore sanitario dell'Aspiti Agrigento Silvio Lobosco, sempre in riferimento all'indagine dei NAS della Procura della Repubblica. Non si finisce mai di migliorare, è che il medico deve essere sempre attentissimo a seguire con scrupolo e con dedizione tutte le procedure nei minimi particolari. Se si tralascia una procedura, un aspetto, può venire fuori l'avendo avverso. Qualche volta l'avendo avverso avviene comunque, anche se la condotta è stata diligente e secondo linee guida. Questo rientra purtroppo nell'inopinabile, cioè nel fatto che il 100% in medicina non esiste, così come non esiste neanche nelle scienze esatte, che si sono dovute piegare al concetto di errore. Ma noi abbiamo il dovere di contenerlo quanto più possibile, quindi di creare delle procedure sempre più affinate, che quindi consentano di ridurre gli eventi avversi e di migliorare la sicurezza al paziente. Sono contento che su questo si sia accendato anche il decreto ministeriale 70 del 2 aprile del 2015, che rega i standard dei quali quantitativi degli ospedali e sottolinea l'importanza della prevenzione della gestione del rischio clinico e anche la nuova legge Gelli Bianco, che anche questa embatizza il ruolo del rischio clinico e quindi della gestione del contenimento dell'errore in medicina.